Abbiamo questa, allora, sempre per perché va detto per il verbale, avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e richiamo quindi l'attenzione dei nostri ospiti sul carattere pubblico delle audizioni. Allora, questa mattina, scusate, prendete tutti posto, grazie. L'audizione della terza Commissione Affari Esteri e della dodicesima Commissione Affari Sociali è dedicata nell'ambito della proposta di inchiesta parlamentare sulla istituzione di una commissione di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per evitare la propagazione nel mondo. Questa mattina è la prima audizione, ne faremo altre naturalmente, della dottoressa Laura Hart, esperta in diritto internazionale e rappresentante del Global Committee for Rule of Law che è intestato a Marco Pannella. Saluto e ringrazio per la disponibilità la dottoressa Hart, ricordando che il Comitato Globale per lo Stato di Diritto Marco Pannella è stato fondato nel marzo 2016 dallo stesso leader del Partito Radicale. Come è noto, Marco Pannella ha dedicato tutta la sua vita alla difesa e al rafforzamento dello Stato di Diritto e così ha fatto anche in veste di Presidente Onorario del Comitato Suddetto e per questo il Comitato è stato intestato al suo nome. L'obiettivo del Comitato è quello di contrastare l'erosione dello Stato di Diritto che affligge varie nazioni nel mondo e di promuovere la completa affermazione dei diritti umani a livello globale, a partire dalle Nazioni Unite attraverso un approccio multilaterale non violento. Il contributo della dottoressa Hart può risultare utile ai fini del nostro ciclo istruttorio per la riflessione sul diritto alla conoscenza, qual è l'elemento costitutivo dello Stato di Diritto anche rispetto alle scelte adottate dalle organizzazioni internazionali e degli Stati nazionali. Detto questo... Presidente Zofili chiede la parola sull'ordine dei lavori, sui lavori delle commissioni. chi è Zofili? Zofili ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori? Accendere il microfono. Zofili? Accendere il microfono, Zofili? Non la sentiamo? Niente da fare. Allora andiamo avanti. Allora do la parola alla dottoressa Hart affinché svolga il suo intervento. Prego. Grazie mille Presidente e buongiorno agli onorevoli membri delle commissioni. Vi ringrazio molto per l'invito oggi di parlare in merito alla... Aspetti un attimo dottoressa. Zofili ha la parola? La sentiamo? Prego. Mi sente Presidente? Io sì, noi la sentiamo. Presidente Zofili è debole. Dica. Il collegamento è debole. Avremo dopo l'ufficio. Grazie. Vi ringrazio quindi molto per l'invito oggi. Mi dica Zofili. Zofili, lei ha un collegamento molto debole quindi non riusciamo a sentirla. Adesso facciamo l'audizione dottoressa Hart e dopo c'è l'ufficio di presidenza e potrà se riusciamo collegarci e dirci quello che vuole dirci. Grazie. Grazie. Ora, per iniziare evidentemente non sono una virologa o una professionista con altre esperienze pertinenti nel campo sanitario. Può quindi sembrare un po' strano in questo momento particolare una mia audizione. Sono convinta però che per affrontare la questione che abbiamo davanti con la possibile istituzione di una commissione d'inchiesta e in generale anche per affrontare la pandemia in quanto tale bisogna riconoscere per forza che non si tratti o certamente non si è trattato di una questione meramente di carattere sanitario ma innanzitutto anche profondamente politico. Non credo sia un caso che i primi a suonare il campanello d'alarme ad inizio metà gennaio dell'anno scorso circa la possibilità di una crisi molto più grave di quanto non emergesse dal consenso scientifico occidentale all'epoca non veniva dal campo sanitario ma da chi segue con attenzione la politica nella e della Repubblica Popolare Cinese su scala globale e in particolare all'interno delle istituzioni multilaterali. Non è ovviamente mio compito qui né la mia intenzione stabilire o meno le eventuali mancanze da parte di organi governativi o intergovernativi. Vorrei però sollevare alcuni brevi fatti su cui mi pare del tutto lecito fare domande domande che sono molto vivi anche nel dibattito pubblico al quale solo delle risposte chiare potranno fornire la necessaria conoscenza per discernere informazione da disinformazione nonché contrastare la crescente sfiducia pubblica nelle istituzioni quanto mai necessaria in questa nuova fase di vaccinazione di massa e contrasto alla pandemia a cui andiamo incontro nell'anno nuovo. Le International Health Regulations adottate dalla 58esima Assemblea Mondiale della Sanità nel 2005 e entrate in vigore il 15 giugno 2007 e alle quali hanno aderito tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nascono proprio per quanto ho imparato dalla crisi SARS nel 2003. Stabiliscono delle linee guide chiare per le autorità statali in termini di sorveglianza, monitoraggio e reporting sugli scopi di malattie infettive che possano rappresentare un rischio internazionale con lo scopo di prevenire, proteggere contro, controllare e fornire una risposta di sanità pubblica alla divulgazione internazionale in una maniera commensurata e ristretta ai rischi di salute pubblica e che evita interferenze non necessarie con il traffico e il commercio internazionale. In particolare per quanto riguarda le malattie di genere influenzale o SARS, l'allegato 2 delle Regulations parla molto chiara in quanto stabilisce che nel caso il sistema di sorveglianza nazionale venga a conoscenza di casi inusuali o inespettati, le deve comunicare entro le 24 ore all'OMS secondo l'articolo 6 paragrafo 1 delle suddette Regulations, senza ulteriori passaggi come invece il caso per altre patologie. A seguito di tale notifica gli stati membri in questione si sono impegnati sotto il paragrafo 2 dello stesso articolo 6 a continuare a condividere con l'OMS le informazioni di sanità pubblica accurate e sufficientemente dettagliate a sua disposizione sull'evento notificato. Alla luce di tali disposizioni permettetemi di ripercorrere brevemente e in modo veramente molto sommario alcuni momenti chiave nella cronologia iniziale dello scoppio pandemico, una cronologia per la quale prenderò spunto per quanto possibile dalle stesse fonti ufficiali cinesi e o dell'OMS proprio per evitare eventuali bias o pregiudizi. Il 6 aprile 2020 l'agenzia statale cinese Shinhua ha pubblicato una sua timeline degli eventi sulla base dei resoconti mediatici e delle informazioni della Commissione Sanitaria Nazionale, istituti di ricerca scientifica e altri dipartimenti statali. Abbiamo tutti letti vari rapporti sulla possibile data di inizio della pandemia, ma solo un'indagine in loco potrà dare delle risposte certe. Shinhua riporta un generico fine dicembre 2019 come data in cui il Wuhan Center for Disease Control and Prevention, nella provincia centrale cinese di Hubei, ha rilevato casi di polmonite di causa sconosciuta. Secondo quanto stabilito dalle International Health Regulations, in particolare l'articolo 6 che si riferisce direttamente all'allegato 2, a seguito di questa rilevazione Viera quindi l'obbligò di comunicarlo tempestivamente all'OMS, notifica che non pare esserci stata. Il 30 dicembre, sempre secondo Shinhua, la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan emette una notifica urgente alle istituzioni mediche sotto la sua giurisdizione, ordinando sforzi per trattare in modo appropriato i pazienti con polmonite di causa sconosciuta. È lo stesso giorno in cui l'oftalmologo Liwen Liang condivide informazioni su un nuovo virus simile al SARS con alcuni suoi colleghi su WeChat. Insieme a sette suoi colleghi viene di seguito fermato ed interrogato dalla polizia. Il 31 dicembre la Commissione Nazionale per la Sanità si organizza nelle prime ore del mattino e invia un team di esperti a Wuhan. Il 1 gennaio la stessa Commissione Nazionale istituisce un gruppo di lavoro per determinare la risposta di emergenza all'epidemia. A partire dal 3 gennaio, e cito letteralmente, a partire dal 3 gennaio la Cina ha informato regolarmente l'OMS, i Paesi e le regioni pertinenti e Hong Kong, Macau e Taiwan della Cina sull'epidemia di polmonite. Dalla cronologia presentata da Shinhua, quindi, emerge chiaramente che almeno dalle prime ore del mattino del 31 dicembre, le autorità nazionali erano a conoscenza tale dell'evento che si stava verificando per mobilitare una prima risposta nazionale. Tra quella data del 31 dicembre e il 3 gennaio trascorrono tra le 72 e 96 ore prima di una comunicazione con l'OMS e Paesi terzi. Una comunicazione che avviene, come apprendiamo da diverse cronologie pubblicate dall'OMS stessa, dopo esplicita richiesta da parte dell'OMS inviata il 1 gennaio dopo una segnalazione da mittente non specificato all'organizzazione. È la prima volta che vediamo l'indicazione di una spinta esterna ad indurre le autorità di Pechino a comunicare con l'OMS e potrebbe quindi trattarsi di un caso dovuto alle difficoltà nelle fasi iniziali di una epidemia ancora sconosciuta. Però la presenza di spinte esterne nelle comunicazioni si ripete per ogni evento significativo nel mese di gennaio. Succede per la condivisione della sequenza genetica del nuovo coronavirus con la comunità internazionale e soprattutto per la missione della trasmissione da uomo a uomo soltanto il 20 gennaio da parte dell'epidemiologo cinese Zhong Nanshan, oggi membro dell'Independent Panel, il gruppo di esperti indipendenti istituita dell'OMS per valutare la preparazione e la risposta alla pandemia. Una trasmissibilità da uomo a uomo è gravità della situazione su cui i massimi dirigenti nazionali si erano già espressi in una riunione riservata del 14 gennaio, comunicando però nello stesso giorno all'OMS e da lì al mondo intero che le autorità cinesi non hanno riscontrato nessuna prova chiara della trasmissione da uomo a uomo del nuovo coronavirus. Il messaggio centrale della riunione del 14 gennaio, in cui si sono trasmesse le istruzioni sul coronavirus del Presidente Xi Jinping, del Premier Li Keqiang e del Vice-Premier Sun Chunlan, era di unirsi intorno a Xi Jinping, chiarendo che le considerazioni politiche e la stabilità sociale sono priorità chiave. Saranno queste considerazioni politiche e di stabilità sociale che guideranno le massicce operazioni di censura e propaganda all'interno del Paese e all'estero, come evidenziato ancora nella settimana scorsa dal New York Times e delle quali anche l'Italia è stata colpita in modo particolare, come evidenziato da articoli pubblicati da Formiche, ma come denunciata anche della stessa Unione Europea. Come detto all'inizio, questa è una cronologia molto molto somaria che cerca di sottolineare alcuni punti interrogativi e sui quali, se ritenete, posso tornare con qualche dettaglio in più successivamente. A questi vanno aggiunti le incongruenze nella comunicazione dei dati che non sembrano essere riconducibili soltanto alle difficoltà comprensibili di effettuare i test sulla popolazione all'inizio dell'epidemia. La questione dei dati, e ricordiamo gli obblighi sotto l'articolo 7 delle International Health Regulations, è fin troppo riminescente da quanto accaduto proprio durante la SARS nel 2003, che fu la causa importante e costituente per la revisione delle stesse regulations adottate poi nel 2005. Inoltre va notato che Saixin, una fonte investigativa cinese, ha di recente riportato una notizia simile per quanto riguarda la fuga di brucellosi, una malattia potenzialmente debilitante per tutta la vita, da una fabbrica di proprietà statale nella città di Lanzù. Ad inizio dicembre di quest'anno il Governo di Lanzù ha confermato che la malattia era stata ritrovata in 10.528 persone a seguito di test su 70.000 residenti locali, più di 50 volte il numero di casi riconosciuti dal Governo nel dicembre 2019. Sono poi fonti stessi dell'OMS, tramite le registrazioni ottenute dall'Associated Press e pubblicati il 3 giugno, che confermano che i funzionari dell'OMS si lamentavano nelle riunioni della settimana del 6 gennaio sul fatto che la Cina non condivideva dati sufficienti per valutare l'efficacia della diffusione del virus tra le persone o il rischio che rappresentava per il resto del mondo, facendo perdere tempo prezioso. In pubblico però l'OMS si trovava costretto a lodare la Cina perché voleva giustamente ottenere maggiori informazioni dal Governo. E ci ricorderemo ovviamente tutti gli elogi alla risposta cinese dal suo direttore generale, risposta che ha poi guidata buona parte delle prime fasi di gestione della pandemia nel mondo. E quindi, a mio parere, anche in questa ottica, dove le considerazioni politiche e la stabilità sociale sono priorità chiave, come dalle dichiarazioni delle stesse autorità cinesi, che vanno inevitabilmente lette le azioni del Governo cinese e, di conseguenza, almeno in parte della capacità dell'OMS di rispondere e comunicare in modo adeguato. È indubbio lecito chiedere se le rivelazioni circa i dubbi e la mancanza di informazioni sostanziose sono state condivisi con gli altri Stati membri in modo che si potessero preparare al meglio. Ma inoltre credo atto dovuto alla stessa OMS valutare proprio per il passato, per poter comprendere il possibile futuro e poterne rafforzare il ruolo tecnico e scientifico, piuttosto che dover navigare le acque geopolitico, che non è un compito che le spetta. Mi pare quindi importante valutare quale sia l'impatto di un sistema nazionale che metta le considerazioni politiche al centro nella gestione di una pandemia globale sulle stesse organizzazioni multilaterali. È stato indubbiamente un passo importante e difficile da raggiungere quello deciso dalla 73esima Assemblea Mondiale della Sanità a maggio di istituire una valutazione indipendente e internazionale sulle origini e la gestione della pandemia. Ricordiamoci anche la forte rilutanza cinese a consentire a tale formulazione e le sanzioni unilaterali imposte ancora oggi sull'Australia anche per aver chiesto tale valutazione. Ha certamente ragione la Vice Ministro del Re, quando nella seduta di queste Commissioni l'11 novembre ha sottolineato l'importanza di far svolgere ai tre gruppi di esperti costituiti per svolgere tale valutazione il loro lavoro. Possiamo però sollevare di nuovo alcuni punti interrogativi, in particolare per quanto riguarda il gruppo di esperti internazionali incaricati di studiare le origini del virus sulla base proprio di quanto accaduto in passato. Sappiamo come la visita al preliminare di una squadra di esperti dell'OMS il 20 gennaio sia stata sotto stretto controllo delle autorità cinesi e che non abbiano potuto accedere a luoghi ritenuti chiave come il mercato di Huanan. Sappiamo anche che i due esperti che si sono recati in Cina quest'estate, proprio a seguito dalla valutazione decisa dell'Assemblea Mondiale, sono stati costretti a rimanere a Pechino. Da quanto apprendiamo finora circa la squadra di esperti che si dovrebbe recare a Pechino a gennaio, non è ancora confermato un loro accesso indipendente a luoghi ritenuti chiave, né un accesso pieno ai dati. Inoltre i Terms of Reference per la loro indagine, stabilite naturalmente insieme al Governo cinese, non confermano che tali accessi saranno garantite. Dai resoconti pubblicati invece del terzo gruppo di esperti, l'Independent Panel co-presieduto dall'ex Prima Ministra della Nuova Zelanda, Helen Clark, e dall'ex Presidente della Liberia, Helen Johnson Sirleaf, possiamo evincere che sembrino ad ora intenti a intendere a senso lato il loro mandato nelle Terms of Reference, i quali citano l'efficacia dei meccanismi a disposizione dell'OMS, il funzionamento delle International Health Regulations e lo stato di attuazione delle raccomandazioni pertinenti dei precedenti comitati di revisione di essi, il contributo dell'OMS agli sforzi a livello di Nazioni Unite e le azioni dell'OMS e le loro relative cronologie relative alla pandemia Covid-19. Da una frase in particolare dal resoconto della seconda riunione, sembra che non intendono accettare censure. Ora questo dà certamente speranza anche perché il loro mandato è indubbiamente quello con la maggiore potenziale portata politica nel quadro della valutazione e con la volontà di proporre raccomandazioni concrete per una eventuale riforma dell'OMS. Un primo test fondamentale per capire quanto potranno effettivamente fare consisterà nella loro cronologia degli eventi che secondo i resoconti sarebbero in procinto di pubblicare. Purtroppo esperienze dirette all'interno del sistema ONU che dimostrano pressioni interne persino per delle note a pie di pagina, rilevazioni da funzionari ONU stesso circa le pressioni nello svolgimento del loro ruolo, nonché quanto abbiamo visto anche pubblicamente durante questi ultimi mesi, come la censura attiva delle parole Taiwan durante le conferenze da parte di un'altra agenzia ONU, l'ICAO, nonché le dichiarazioni di altri funzionari cinesi all'interno del sistema unisiano, ci fanno temere che l'ottimismo espresso dall'Independent Panel possa essere prematuro per quanto riguarda la possibilità di pubblicare in completa indipendenza nel caso intendono veramente svolgere il loro mandato in senso lato, nonché concentrandosi quindi unicamente sulle raccomandazioni e il loro seguito da parte dell'OMS. Soprattutto se poi non vogliono neanche minare le possibilità della squadra di esperti che si deve recare in Cina per indagare sulle origini del virus. Ricordiamoci bene le parole dell'ambasciatore cinese a Ginevra il 6 maggio scorso, parole ripetute con frequenza dai massimi organi cinesi. Per sapere se o come avrà l'invito ad esperti internazionali, in questo momento dobbiamo avere la giusta impostazione di priorità e, d'altra parte, abbiamo bisogno della giusta atmosfera. Non è un mistero che quel che le autorità di Pechino intendono solitamente con una giusta atmosfera è una che non lascia nessuno spazio al rilevamento di eventuali criticità, come vediamo purtroppo confermato dalla Wolf Warrior Diplomacy in questi mesi, o la crescente repressione sulla libertà di stampa nel Paese e in particolare dell'incremento impressionante di estromissione di corrispondenti esteri, nonché l'incarcerazione o sparizione di giornalisti come Chen Kyushi, che ci raccontava quanto accadeva a Wuhan. Spero ovviamente di sbagliarmi profondamente. I tempi previsti per le Commissioni sono brevi, con aggiornamenti regolari sul loro sito, un briefing intermediario atteso ancora a gennaio e un rapporto finale già alla prossima Assemblea Mondiale della Sanità in primavera. In tutto questo, quindi, ha senso per l'Italia istituire una Commissione d'inchiesta propria? Non spetta certamente ovviamente a me valutarlo ed è del tutto evidente che non si possa prefissare di affrontare l'intera questione da sola. Ma ritengo che anche all'interno del quadro internazionale è proprio per rafforzare quanto avviene lì e per poterne eventualmente contrastare alcune difficoltà. Vi è un ruolo e una responsabilità anche per un singolo Paese ad indagare. Innanzitutto perché come Paese membro dell'OMS e aderente alle International Health Regulations abbia l'obbligo di lavorare per prevenire futuri scenari simili. In questo, per alcune delle ragioni che ho cercato di elencare in modo molto sommario prima, a mio avviso non può mancare anche una valutazione del quadro geopolitico, nonché quello politico di Paesi terzi. È stato del tutto evidente che Paesi o territori che hanno inclusi tali considerazioni e nella loro valutazione delle risposte iniziali hanno ottenuto risultati di contenimento molto maggiore. Penso ovviamente a Taiwan, ma anche per esempio al Vietnam. Studiare e capire anche l'impatto dell'attuale quadro geopolitico sulle istituzioni multilaterali, certamente OMS, ma anche altri che forse non sono oggetto di questa eventuale inchiesta, ma è importante lo stesso quando leggiamo ad esempio nelle valutazioni preliminari del gruppo di esperti sull'adeguatezza delle International Health Regulations, una possibile raccomandazione di un meccanismo futuro di peer review sul modello della revisione periodica universale del Consiglio per i diritti umani, si propone ai miei occhi non solo come difficilmente rinviabile, ma anche un possibile aiuto di rafforzamento nei confronti delle stesse organizzazioni multilaterali che questo compito non possono svolgere da soli, essendo dipendenti di un'organizzazione intergovernativa. Spetta quindi ai governi responsabili difendere l'ordine multilaterale e i funzionari che negli organismi costituiti ne devono svolgere le funzioni. È evidente che se per ragioni geopolitiche gli stessi Stati membri sono reticenti a porre certe domande, non possiamo aspettarci che siano gli organismi da essi governati a porle. Come si dice, a volte è troppo facile sparare sul pianista. Serve quindi, a mio parere, anche un'assunzione di responsabilità degli stessi Stati membri, un'assunzione che si deve ovviamente basare il più possibile su un accertamento dei fatti. Inoltre, alcune questioni riguardano proprio anche le azioni compiute da Paesi terzi all'interno dell'Italia. Penso alla mancata disponibilità di materiali protettivi nei primi mesi della pandemia e il ruolo di un eventuale insabbiamento iniziale della crisi, nonché importazione massiccia da parte della Cina, su cui sono già stati fatti rapporti e studi in Paesi come Canada, Stati Uniti e Australia. Ma penso in particolare anche all'enorme campagna di disinformazione e o propaganda cinese, o la cosiddetta politica degli aiuti con la quale si può aver cercato di influenzare la politica e l'opinione pubblica italiana in una certa direzione. I termini dei vari mandati degli esperti internazionali certamente non prevedono tale indagine, ma anche queste sono tra le tante domande che sono chiaramente sorti nell'opinione pubblica e continueranno legittimamente a sorgere. E questo mi porta alla mia conclusione. Nella stessa risoluzione di maggio dell'Assemblea mondiale della sanità sulla risposta al Covid-19, gli Stati membri si sono impegnati a combattere quel che è stato definito come una infodemia. Il Segretario generale dell'ONU e otto agenzie, tra cui la stessa OMS, hanno lanciato vari appelli agli Stati membri per combatterla. Il 23 settembre si scrivono «la disinformazione costa vite». Senza la fiducia appropriata e le informazioni corrette, i test diagnostici non vengono utilizzati, le campagne di immunizzazione non raggiungeranno i loro obiettivi e il virus continuerà a prosperare. Inoltre la disinformazione sta polarizzando il dibattito pubblico su argomenti relativi al Covid-19, amplifica l'incitamento all'odio, aumenta il rischio di conflitti, violenze e violazione dei diritti umani, e minacciando prospettive a lungo termine per il progresso della democrazia, dei diritti umani e della coesione sociale. L'ONU stessa e le otto agenzie firmatari chiedono pertanto agli Stati membri di prendere le misure per contrastare la disinformazione e le teorie di complotto. Come sappiamo tutti, credo, non vi è miglior motore per la disinformazione e le teorie di complotto che la sensazione che alcune domande non si possano porre. Portarle e discutere con esperti alla luce del sole ne è un ottimo, se non l'unico, antidoto. Giustamente questa è una questione di importanza fondamentale, soprattutto nella fase che stiamo per iniziare di una campagna di vaccinazione di massa su scala globale, mentre continuano le altre misure di contrasto alla pandemia. Entrambi questioni per cui la fiducia pubblica nelle istituzioni, siano essi nazionali o multilaterali, è fondamentale. Cercare quindi tramite una indagine di rispondere alle varie domande legittimamente sorte negli ultimi mesi e che hanno messo e continuano a mettere a repentaglio tale fiducia, fare e dare conoscenza ai cittadini per un dibattito pubblico più informato sul passato che possa guidare le scelte future con maggiore consapevolezza, sembra opportuno non solo per prepararci meglio a possibili futuri scenari, ma anche proprio per contrastare l'infodemia come ci invita lo stesso ONU. Grazie mille dall'attenzione e scusatemi per la lunghezza. Grazie. Allora adesso hanno la parola i commissari. Chi chiede la parola? Prego. Onorevole Formentini della Tazza Commissione. Allora innanzitutto ringrazio anche i presidenti per aver reso possibile questa audizione pur in giorni dedicati al bilancio. Come Lega, come Noto, abbiamo fatto davvero di tutto per arrivare a questa audizione. Non è stato facile. C'è un tentativo in corso ovvio di insabbiare questa commissione di inchiesta che noi chiediamo. Raccoglieremo senz'altro anche il consiglio del presidente Fassino di far sì che vada in aula come richiesta dei gruppi di minoranza, cosa che accadrà appena ci sarà la conferenza capigruppo. Era già stata calendarizzata in vero a dicembre, ma è slittata per la sessione di bilancio. Io ringrazio di cuore Laura Art, perché forse non tutti la conoscete, ma è stata una delle poche voci libere durante l'infodemia della scorsa primavera, ma anche tuttora, a combattere, a volte anche da sola, con poche riviste libere, con pochi giornali libere, quella che è stata davvero un'infodemia, una guerra di informazione, un tentativo di far sì che l'opinione pubblica del nostro Paese si convincesse che gli aiuti provenienti dalla Cina erano aiuti fatti di buon cuore per altruismo e per cercare di stabilire un legame d'amicizia con il nostro Paese. Ben sappiamo che così non è, oggi il caso addirittura è studiato da scienziati della politica di tutto il mondo ed è studiato perché rappresenta l'esempio di quelle guerre di nuova generazione alle quali stiamo assistendo. Fatta questa introduzione, penso che l'audizione di oggi motivi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la necessità di proseguire nel cammino della Commissione d'inchiesta. Il nostro Paese è stato sott'attacco ben due volte al contempo, una con questo virus che, come abbiamo sentito, poteva essere contrastato in modo più efficace dall'OMS stessa qualora vi fosse stata più trasparenza da parte della Cina e la seconda, lo dicevamo adesso, con questa guerra delle mascherine, dei dispositivi protettivi che in realtà è stato solo un cavallo di Troia per penetrare l'Occidente e il resto del mondo con le merci cinesi e per aumentare l'influenza di questo regime comunista sul mondo. Grazie. Grazie. Formentini, altri? Prego. Sì, grazie, Presidente. Unendomi alle considerazioni fatte dal collega e complimentandomi con la relatrice udita per l'intervento, mi viene da fare qualche considerazione all'atere e anche una domanda. La considerazione è evidente già dalle prime fasi della pandemia è quella di una necessità di una sorta di autarchia in tema di dispositivi di protezione individuali e più in generale e molto più significativamente dei principi attivi farmaceutici e farmacologici e anche degli eccipienti per produrre farmaci perché durante la fase pandemica abbiamo scoperto che noi dipendiamo completamente dalla Cina per la formulazione di farmaci salva vita. Interloquendo con alcuni esperti in materia di industria farmaceutica mi facevano notare che l'Italia avrebbe nel momento in cui vi fosse un embargo da parte della Cina avrebbe soltanto cinque mesi di autonomia e poi non potremmo più produrre farmaci salva vita. Siccome nella fase pandemica purtroppo ci siamo abituati alla chiusura delle frontiere anche rispetto a dispositivi molto meno significativi rispetto appunto ai farmaci salva vita e siccome come chi mi ha preceduto evidenziava oggi le guerre si combattono anche in maniera diversa la prima considerazione che noi dobbiamo fare è quella di una intensificazione di una strutturazione di un'industria farmaceutica di Stato o comunque anche privata ma evidentemente come dire facilitata dallo Stato io penso all'istituto chimico farmaceutico di Firenze insieme a tante misure che si possono prendere per far sì che un'industria che in realtà è già presente in Italia, apro e chiudo la parentesi, l'Italia è prima per industria farmaceutica in Europa con 32 miliardi di euro però evidentemente è un'industria secondaria quindi che assembla farmaci e che dipende appunto dalla Cina e quindi questa è una prima considerazione. Invece poi entrando nel tema io condivido il fatto che evidenziava la relatrice che le zone d'ombra evidentemente producono paura producono o possono produrre fraintendimenti, tensioni sociali quindi noi dobbiamo dare delle risposte oggi per esempio al TAR si discute una nostra misura prodotta e avversa al Ministro Speranza sul piano pandemico nazionale. Noi abbiamo chiesto e abbiamo portato in tribunale il Ministro Speranza per capire se esiste o meno questo piano pandemico nazionale perché ad oggi nonostante dieci interrogazioni parlamentari che noi abbiamo prodotto non c'è stata ancora una risposta univoca. Vado e quindi questo per descrivere il tema Il clima del Paese mi pare una saggia decisione Presidente non le sfuggirà che ho detto che è una misura che è derivata dopo dieci interrogazioni parlamentari per una persona che immagino come lei creda nella democrazia e creda nella rappresentatività che noi abbiamo in questo consesso il fatto che due parlamentari per nome di un gruppo chiedano per dieci volte in dieci diverse interrogazioni una risposta che non gli arriva evidentemente però diciamo è il primo ricorso che io in tanti anni di politica faccio la magistratura anche se non evidentemente penale però è la prima volta che in realtà uso però esasperato dal fatto che per dieci volte lo ripeto c'è stato negato questo accesso e prima che trasmissioni come report e altri sollevassero il problema Detto questo la mia domanda alla relatrice è questa Lei ha fatto una riflessione rispetto ai dpi e al movimento degli stessi in momenti diciamo mi è sfuggito questo passaggio o meglio non l'ho capito io e mi scuserà la domanda è vi sono stati movimenti o sono tracciati movimenti di dispositivi di protezione individuale prima che fosse conclamata diciamo l'esistenza appunto della SARS-CoV-2 quindi della pandemia perché evidentemente se vi sono prima dei movimenti c'è dell'altro Vigna Io ringrazio, grazie Presidente intanto ringrazio la dottoressa Art per l'esaustiva relazione e la ringrazio anche per il suo impegno nel campo dei diritti civili e l'impegno del comitato che rappresenta mi ricollego all'intervento del collega che ha parlato prima di me nel sottolineare l'importanza che la sanità torni ad essere un asset strategico del paese e di questo continente. A febbraio a marzo ci siamo svegliati in mezzo alla pandemia e abbiamo scoperto che le mascherine come i tubi per i respiratori erano qualche cosa che inevitabilmente avremmo dovuto produrre all'interno del paese e ce ne eravamo forse dimenticati che ci serva a monito lo dico a tutta la politica, la sanità, la produzione del paese che ci serva a monito per il futuro ma venendo al tema è decisamente importante aprire il dibattito anche in Italia perché quello che noi abbiamo notato dottore Sart è che mentre all'estero le responsabilità sia della Repubblica Popolare Cinese sia dell'OMS sono state dibattute e c'è un vero dibattito anche sui mass media in Italia questo dibattito è stato aperto di sicuro dal vostro comitato di sicuro da alcuni partiti politici fra cui il mio di sicuro da qualche mass media ma i grandi media nazionali hanno sempre cercato di coprire il fatto che all'estero questo dibattito esiste quindi responsabilità Cina, responsabilità OMS e oggettivamente sarebbe importante parlarne anche in Italia di sicuro anche gli enti locali stanno lavorando in tal senso io sono deputato piemontese il Piemonte è stata la prima regione in cui nel Consiglio regionale è stato depositato un ordine del giorno ancora prima che qua la Camera dei Deputati in cui si richiede di verificare le responsabilità della Repubblica Popolare Cinese e anche si apre un dibattito su quello che potrebbe essere un'eventuale richiesta di danni alla Repubblica Popolare Cinese e indubbiamente nel mondo tante forze sociali e diversi stati vanno nell'ottica di un'idea di uno smantellamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed esiste un precedente nel secolo scorso nel secolo scorso dopo la Seconda Guerra Mondiale fu smantellata la Società delle Nazioni Unite creata dopo la Prima Guerra Mondiale a fronte del fatto che la Società delle Nazioni Unite non è stata in grado di prevenire la Seconda Guerra Mondiale ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità può avere tanti scopi uno degli scopi principali a questo punto noi potremmo dire che poterà essere quello di prevenire un'epidemia mondiale ovvero una pandemia dal momento che questo scopo questa mission è fallita ha semplicemente fallito la sua missione è chiaro che poi fallito la sua missione per incapacità o per responsabilità politica questo lo dovrà dire il dibattito internazionale sia politico che scientifico che sanitario in un modo o nell'altro ha fallito la sua mission a questo punto è chiaro che non è fantascienza parlare al termine di questa pandemia perché è chiaro che un'organizzazione in questo momento comunque può servire in questo momento non sarebbe possibile smantellare e ricostruirne un'altra nel mezzo della pandemia ma è chiaro che alla fine della pandemia il dibattito sullo smantellamento dell'OMS potrebbe essere un qualche cosa di assolutamente positivo ed è importante che anche in Italia se ne parli grazie dottoressa, grazie presidente grazie altri? ci sono altri interventi? allora prego dottoressa grazie, grazie a tutti rispondo innanzitutto alla domanda circa i dispositivi personali no, protettivi individuali scusate prima della dichiarazione pandemico è uno dei punti che ha sollevato molto brevemente ma che credo merita ulteriore attenzione come ho detto è stato sollevato appunto nei mesi scorsi da fonti americane, australiane e canadesi come i ritardi iniziali nelle comunicazioni sullo scopio dell'epidemia in Cina potrebbe aver contribuito in modo significativo alla carenza di materiali di prima necessità come le mascherine chirurgiche nel mondo occidentale secondo un rapporto del Dipartimento di Sicurezza Nazionale statunitense del primo maggio i leader cinesi avrebbero intenzionalmente nascosto la gravità queste sono le parole loro ovviamente della pandemia all'inizio di gennaio l'analisi afferma che mentre Pechino minimizzava la gravità del coronavirus la Cina ha aumentato in modo significativo le importazioni e diminuito le esportazioni di forniture mediche ha cercato di nasconderlo negando che ci fossero restrizioni all'esportazione ed offuscando e ritardando la fornitura dei suoi dati commerciali il rapporto afferma inoltre che durante il mese di gennaio le sue importazioni di mascherine camici chirurgici e guanti sono aumentate notevolmente tali conclusioni si basano su una probabilità del 95% che i cambiamenti della Cina nelle importazioni e esportazioni non rientrassero in un intervallo normale come mostrano poi i dati del governo cinese pubblicati dopo nel giro di sei settimane la Cina ha importato 2,5 miliardi di pezzi di materiale di sicurezza per epidemie e incluse oltre 2 miliardi di mascherine di sicurezza il risultato è stato che a partire da marzo quando il covid-19 aveva raggiunto tutti i paesi del mondo i paesi che a gennaio e febbraio avevano fornito mascherine alla Cina furono costretti a competere tra di loro per la fornitura cinese su questo se vuole posso mandarle i rapporti che provengono appunto dei vari paesi che sono almeno una indicazione di quanto ho cercato di dire se mi permette poi l'onorevole Ghiglio Vigna personalmente io credo nell'importanza e il ruolo delle organizzazioni multilaterali soprattutto in questo periodo in cui ovviamente i problemi che affrontiamo sono sempre più transnazionali quindi la parola smantellamento non mi piace per forza sicuramente ci sono sempre più voci che parlano di una riforma per quanto riguarda l'OMS ci sta pensando anche il gruppo appunto di esperti indipendenti a formulare eventuali raccomandazioni non riguarda solo l'OMS riguarda anche tante altre istituzioni ONU che combattono con lo stesso problema che è dovuto anche diciamolo al sistema intergovernativo non possiamo sempre dare la colpa alle stesse organizzazioni ma quindi credo per tutto questo per arrivare a una proposta di riforma credibile serve proprio accertare i fatti per poterlo fare con conoscenza anche per valutare le eventuali proposte che arriveranno da altri fonti grazie bene grazie si conclude qui la l'audizione si conclude anche ovviamente la congiunta tra la quattordicesima e la terza ringrazio i colleghi della quattordicesima commissione adesso c'è l'ufficio di presidenza della terza commissione